Allora Alberto, complimenti per la prestazione, tu e della squadra hai fatto un po' di tutto oggi, hai fatto gol, ti sei procurato l'espulsione, il rigore, hai pure segnato, insomma prestazione completa, tu e di tutto il gruppo. Sì, sono... Fermati qua, va che... Ma lui deve parlare dopo, quindi non c'è problema, non andiamo a prendere la pulma. No, come dicevo, sì, sono contento della mia prestazione, ma soprattutto della squadra che ha saputo reagire dopo i punti persi a Novara e quelli persi contro la Sampdoria in casa che era una partita importante, abbiamo reagito bene alla grande, siamo andati in gol anche chi giocava di meno, come Martínez, così, e questa è una cosa importante, no, siamo contenti e adesso pensiamo sicuramente alla prossima partita. Senti, in trasferta si va meglio che in casa, i numeri lo dicono, il Parma ha perso solo la prima a Sassuolo, poi tre vittorie, un pareggio, in casa ancora ogni tanto si balbetta un po'. È un caso, siete una squadra che preferisce magari giocare di rimessa, lo chiedo anche a te che sei un po' il funco da Zanofensi. No, sicuramente no, è un caso, per quanto ne posso sapere io è un caso, sicuramente. Sì, dobbiamo stare più attenti, in casa e fuori casa per me nel calcio conta veramente poco, anche perché non c'è la scusa magari del tifo, sono sempre le stesse persone che vengono, però no, va bene così, in casa cercheremo sicuramente di far meglio la prossima. Sei quasi al cento per cento adesso Alberto come condizione fisica, tu hai stato un anno un po' particolare, sei partito con questo infortuno, poi c'è stato il Mondiale, di cui poi non abbiamo mai parlato, magari dopo ti chiedo qualcosa. Adesso ti senti al top, o quanto meno vicino al top? Beh, sì, sto sicuramente molto meglio di quando ho iniziato, non oggi perché ho fatto il gol così, però me lo sento proprio fisicamente, anche con la Sampa, anche se non ho giocato bene così, mi sentivo abbastanza bene, poi non sono riuscito a dare quello che volevo e avrei potuto dare, però sono contento così e lavoriamo in allenamento per cercare sempre la forma migliore. Senti, ripensando al Mondiale, dato che io sono stati in sotteggio del Mondiale, è quello vero. Un po' di rammarico, ripensando a quello che è stato, una nazionale che forse poteva dare di più. Che esperienza è stata? Però ti chiedo a livello personale, prima che calcistico. No, a livello personale sicuramente è stata un'esperienza, penso la più bella che ho fatto finora, è una domanda anche un po' scema, però un po' di rammarico, sì, potevamo sicuramente far meglio, ma quando si arriva là si incontra squadre che comunque sono tutte forti, tutte ben organizzate, tutte ti conoscono e quindi va bene così, va bene così. Noi abbiamo fatto tanto ad essere arrivati là e va bene così. L'ultima, poi ti lascio, ha esordito Mauri in prima squadra, c'è stato anche l'esordio di Coné che qui, che insomma anche lui ha esordito in maniera felice. Quest'anno c'è la speranza che da parte tua, tu hai esordito l'anno scorso, però c'è la speranza di tornare a magari indossare la maglia crociata anche con i grandi? No, io sono contentissimo innanzitutto per Rosè e Mauri Coné perché sono ragazzi umilissimi che si impegnano sempre in allenamento quindi è stato giusto anche se in compi Italia l'esordio, adesso speriamo che esordiscano anche in campionato perché sono merito, sono ragazzi che hanno grandi prospettive secondo me. Per quanto riguarda me io non ho fretta, sono a disposizione della prima squadra, la mia categoria di appartenenza è la primavera, quindi lavoriamo bene per dar sempre di più, poi se arriverà l'esordio o quel che è, tanto meglio così. Grazie a te.